L'arrivo tanto atteso dei saldi invernali quest'anno potrebbe slittare addirittura di un mese. È questa la richiesta dei commercianti emersa durante l'incontro indetto dal sindacato Federmoda Confcommercio Lucca e Massacarrara di mercoledì 8 novembre, un'assemblea che ha coinvolto i commercianti del territorio che si è tenuta a Palazzo Sani. Fino a 15 giorni fa sostanzialmente eravamo con 25-27 gradi e questo complica la situazione perché a livello vendite chiaramente le vendite reali non sono ancora partite, quindi la stagione si sta accorciando e prevedere i saldi come in tutti gli anni, i primissimi di gennaio diventa un handicap fortissimo. Quindi nel corso di questa riunione è emersa la volontà di quasi la totalità dei partecipanti che rappresentavano un po' i territori in particolare della Lucchesia ma anche di massa, di proterare i saldi e spostarli addirittura di un mese, quindi per il primo sabato di febbraio. Chiaro che noi non possiamo decidere in maniera autonoma perché la legislazione del commercio è sotto la responsabilità della regione. Noi portiamo avanti l'idea in sede regionale Federmoda che si confronterà a livello nazionale e anche a livello nazionale emerso da tante province, devo dire non tutte, la volontà di portare avanti questa data posticipata. Durante la riunione di Federmoda è stato affrontato anche il tema dei corsi di formazione. Confcommercio e Federmoda sia a livello locale ma anche nazionale mettono a disposizione dei format per la formazione perché mai come in questo momento è importante dare un servizio anche per combattere la concorrenza dei grossi gruppi, in particolare del web, quindi alzare la professionalità che nel nostro caso in tanti negozi è già molto elevata e quindi ci poniamo l'obiettivo di migliorarci sempre di più.